ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con salsicce e peperoni il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono pasta corta cipolla pomodorini tagliate a cubetti peperone rosso tagliato a pezzetti salsiccia tagliata a pezzetti olio evo sale pepe prezzemolo acqua e peperoncino fresco diamo il via la ricetta la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e il peperoncino ed azionare il bimbi per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio insaporire per cinque minuti 120 gradi velocità a tre riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere i pomodorini i peperoni la salsiccia il prezzemolo tagliato a pezzetti il sale il pepe e l'acqua e cuocere per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità soft nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente il sugo è pronto condire la pasta e servire pasta con salsiccia e peperoni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti